Il progetto CE, il finanziamento da 9 milioni di euro è stato già stanziato e la firma della convenzione risale ormai a qualche mese fa. Per sbloccare i lavori sul viadotto Sente Longo è dovuto però intervenire direttamente il ministro all'infrastruttura Matteo Salvini. Due settimane fa il sollecito all'ANAS per conferire entro i primi di settembre l'incarico all'impresa individuata nell'ambito dell'accordo quadro. Adesso il cantiere per il viadotto chiuso dal 2018 che collega il Molise all'Abruzzo dovrebbe partire entro il 20 settembre. Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici, viabilità e infrastrutture della regione Molise, Michele Marone. Questione Sente Longo, c'è stato un pressing in questi giorni nei confronti di ANAS affinché possa partire il cantiere. Qual è lo stato delle cose? Sì, il ministro proprio due settimane fa ha sollecitato anche attraverso il sottoscritto ANAS, visto che la politica ha fatto tutto, ha trovato le risorse, hanno fatto i progetti, c'è stata la firma della convenzione e ora la palla è in mano ad ANAS che ho sentito personalmente nella persona del direttore territoriale, mi ha riferito che i primi di settembre avrebbero conferito l'incarico all'impresa nell'ambito di un accordo quadro, un'impresa specializzata per questi lavori e si auspica che per metà settembre, comunque entro il 20 settembre, finalmente potremmo vedere il cantiere aperto. Noi abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, ora è soltanto un discorso di lavori, quindi speriamo di andare a toccare con mano l'apertura di questo cantiere perché è un'arteria vitale per il territorio, è di collegamento sociale soprattutto, ma anche per un rilancio dello sviluppo economico e di assistenza sanitaria fra l'Alto Molise e l'Alto Vastese.